Partita al Fonte Scodella per la Edice Caccimoglie, il capitano, la schiacciatrice Paola Cesaroni. Paola, partita che nel primo set sembrava essersi messa piuttosto bene, poi cosa è successo? È successo che quando ti sembra di aver già vinto il set si molla troppo, è un errore, porta un altro errore, è un altro errore, macerata una buona squadra in difesa che non molla una palla e abbiamo perso. Poi abbiamo perso anche gli altri due, è peggio quello, è perso 2-3-0. Forse nel secondo e nel terzo set un po' il contraccolpo psicologico di un primo set che sembrava essere alla vostra portata? Probabile, non so spiegarlo, se lo sapevo spiegare forse facevo l'allenatrice, non lo so. Peccato perché non è la prima volta che ci capita quest'anno, lottare e poi mollare a 3-0, perdendo 3-0. Adesso questa sconfitta può mettere un po' di pressione nella classifica o comunque il vantaggio resta? Non mi vorrei esprimere in merito, fino adesso l'occhio era non stare sui playoff o meno, ma era l'occhio a chi stava sopra, se puntare al primo posto, al secondo o tenere il terzo. Adesso vediamo, andiamo avanti, si lavora, testa bassa e vedremo alla fine. Più di così da questa serata non si poteva chiedere? Beh, direi di sì, un 3-0, abbastanza netto, pieno, contro una formazione forte, davanti a una cornice di pubblico bella, con tanta gente, insomma, tanta gente ad applaudirci, ecco. Che dire, tre punti importanti per la classifica, tre punti importanti perché ci dà la consapevolezza, insomma, che alcune partite come Forlì, insomma, non erano un caso, insomma, ma siamo una squadra che quando gioca, sa dire, insomma, sa il fatto suo, ecco. Ha parlato di squadra, veramente tutte le giocatrici, chi ha cominciato dall'inizio, quelle che sono subentrate alla panchina, hanno fatto appieno il loro dovere? Sì, sì, diciamo che è un po' la caratteristica, no, che ha questa squadra che ha avuto durante l'arco dell'anno, no, quando una giocatrice magari va un po' in difficoltà, insomma, oppure bisogna cambiare qualche aspetto tattico, no, sempre il suo contributo e credo che questo poi alla fine faccia un po' la differenza e stasera è stato così. Rifaccio all'incontrario la stessa domanda che ho fatto al capitano Di Moglie. Questa vittoria permette di mettere un po' di pressione in classifica a chi sta davanti? Ma sicuramente perdere questa partita avrebbe significato, insomma, dire, non dico addio ai play-off, ma quasi, no, andare a meno 9 chiaramente poi si fa fatica a recuperare. Aver vinto questa partita chiaramente mette sicuramente pressione a chi sta davanti, no, noi cercheremo di dare il massimo fino alla fine, no, poi i conti, come dico sempre, li faremo alla fine.